60 anni fa, il 22 novembre 1963, la storia degli Stati Uniti venne scossa da un evento tragico e indimenticabile, l'assassinio del presidente John Fitzgerald Kennedy a Dallas, Texas. Tuttavia, quel giorno non è solo ricordato per la perdita di un leader, ma anche per la scelta iconica di Jacqueline Kennedy di indossare un tagliere rosa pastello, diventato nel tempo un simbolo di eleganza e memoria. Il tagliere in lana buclee, una raffinata replica di un modello della collezione autunno-inverno 1961 di Chanel, incarnava lo stile senza tempo di Jacqueline. Il colore rosa, una scelta ricorrente nel suo guardaroba, trasformava quel capo in un'icona di moda e di grazia. Confezionato da Shea Ninon, una boutique di lusso di Park Avenue autorizzata a replicare i capi di Coco Chanel, il tagliere bicolor rosa e blu nevi con una longuette diventava il simbolo di un'eleganza discreta ma potente. L'arrivo del presidente e della First Lady a Dallas, a bordo di una Lincoln Continental decapottabile blu notte, segnò l'inizio di un evento che avrebbe cambiato la storia. Jacqueline, con il suo tagliere distintivo e un cappellino abbinato, attirava gli sguardi per la consueta eleganza. Tuttavia, il destino aveva riservato a quel completo un ruolo involontario di testimonianza. Il tragico assassino di JFK trasformò il tagliere in un simbolo di dolore e memoria. Jacqueline, coperta dal sangue del marito appena ucciso, si rifiutò di togliersi quell'abito fino al suo ritorno alla Casa Bianca, desiderando che il mondo vedesse ciò che era stato fatto a John. L'eredità di quel tagliere è rimasta intatta nel corso degli anni. Caroline Kennedy, figlia della coppia presidenziale, lo donò nel 2003 agli archivi nazionali americani con la richiesta che non fosse esposto prima di 100 anni, rispettando così la memoria dei genitori. La scelta di conservare il tagliere nelle condizioni esatte in cui si trovava nel 1963, con ambienti aerati e temperature controllate, mantiene intatta la sua storia e il suo significato. Oggi, a 60 anni dalla tragedia, il tagliere Chanel di Jackie Kennedy rimane un simbolo di eleganza intramontabile e di memoria rispettosa. Da Lady Diana a Margot Robbie, molte celebrità hanno omaggiato quel capo, riconoscendo il suo impatto duraturo e il suo legame con la moda contemporanea. Il rosa pastello, dall'originale Pink PP di Valentino al rosa Barbie di tendenza, continua a riflettersi nelle scelte di stile di molte icone. Tuttavia, nessun altro indumento può trasmettere la stessa carica emotiva e storica di quello indossato da Jacqueline Kennedy quel fatidico giorno. Il tagliere Chanel di Jackie Kennedy non è solo un capo di abbigliamento, è un simbolo di forza, eleganza e resilienza di fronte alla tragedia. A 60 anni di distanza, continua a ispirare e a raccontare una storia di moda e memoria che rimarrà impressa nel cuore degli appassionati di stile e storia americana.